Ciao a tutti, grazie mille, grazie mille ragazzi di Italian Community Manager Summit per aver organizzato l'evento, grazie a Chiara per avermi invitato. Quando Chiara mi ha chiesto di partecipare come speaker sono stato un po' scettico inizialmente, perché contrariamente alle persone che hanno parlato fino ad adesso, né io né le mie colleghe siamo Community Managers, o perlomeno non lo siamo a tempo pieno come primo lavoro. Un piccolo disclaimer, quindi, un altro disclaimer è la nostra comunità si occupa di eventi sul service design. Quanti di voi conoscono o hanno sentito parlare di service design? Animo per l'alzata di mano? Bene, ottimo, ottimo, ottimo. Solamente per darvi e per avere anch'io un piccolo feedback, un piccolo contesto per capire come la community è nata e in quale contesto si muove, una definizione del service design, per chi non lo sapesse, è l'attività di pianificazione di persone, infrastrutture, comunicazione, componenti materiali per migliorare la qualità di un servizio, in modo che sia user friendly, competitivo economicamente, ovviamente utile per l'utilizzatore. La storia del service design è in realtà molto molto recente, comincia nell'82 quando Lynn Shostak, una manager bancaria, lo cita per la prima volta e lo attribuisce come responsabilità al marketing. In realtà nel 91 due professori della Università di Colonia, Michael Erlof e Birgit Mager, dicono no, un attimo, service design appartiene al design. Nella loro università lanciano per la prima volta un corso proprio sul service design. Birgit Mager nel 2004 lancerà la service design network, che è la prima network internazionale per riunire accademici e professionisti del service design. Di questa network fa parte ovviamente anche il Politecnico di Milano, che nel 2005, quindi l'altro ieri, lancia il suo primo corso di laurea magistrale in product service system design. Dieci anni dopo, nel 2015, nasce Services Enderings Milano. Ve lo racconto con un po' di numeri. Noi siamo una comunità che è partita due anni e mezzo fa. In questi anni e mezzo abbiamo organizzato 15 eventi, ospitando 26 tra agenzie e start-up e aziende. Ogni evento ha un numero di partecipanti che si aggira attorno alle 120 persone, ovviamente quando la location lo consente. Abbiamo una pagina Facebook, non un gruppo, che è il nostro primo canale di riferimento, che conta circa 1600 fan, totalmente organici, niente sponsorizzazioni, e una mailing list che conta sulle 1100 persone, attraverso cui comunichiamo ovviamente attività e iniziative, ma anche facciamo un piccolo sommario di quello che è successo sulla pagina nel mese in corso. Come li organizziamo? Innanzitutto grazie a due fantastici sponsor. Uno è Carlsberg, che probabilmente avrete intuito si occupa della parte drink del nome. L'altro, se fate parte appunto di una comunità tecnica, magari lo conoscete, è Totworks, e ci supporta invece coprendo totalmente le spese di quelle che sono snacks, stuff drinks, stampe, gadget e quant'altro. Ovviamente non ci sono solo gli sponsor, ma ci sono anche una fitta rete di partner che nel corso di questi due anni e mezzo, per questi 15 eventi, ci ha ospitato in maniera totalmente gratuita. Qua ci tengo a precisare che Service & Drinks Milano è un evento a, tra virgolette, impatto zero, nel senso che i partecipanti non pagano nulla, non c'è biglietto d'accesso, non c'è fee di accesso, a fronte di un nostro budget tendente a zero, tendenzialmente. Da quando abbiamo Totworks come sponsor siamo riusciti quasi ad azzerarlo. E questo perché? Perché la nostra unica missione, il nostro unico scopo come Service & Drinks Milano è quello di organizzare degli incontri aperti a tutti quanti, informali, con lo scopo di portare insieme, di riunire in uno stesso luogo fisicamente almeno una volta ogni due mesi, la comunità che lavora, studia attorno ai temi del service design, user experience, design thinking e così via. Perché appunto le persone abbiano un ambiente dove scambiarsi esperienze, creare nuove opportunità e aumentare in qualche modo la loro conoscenza, la loro consapevolezza. Detto questo non ci siamo inventati l'acqua calda, Services & Drinks è un format che esiste già a livello internazionale, semplicemente non c'è un organo centrale che li controlla, ma ogni città, ogni paese li assume, li organizza in maniera totalmente indipendente l'una dall'altra. Nel 2012 c'era già stato un tentativo di Service & Drinks Milano. Abbiamo poi avuto modo di parlare con le persone che a suo tempo l'avano organizzato e gli abbiamo chiesto ma come mai secondo voi è fallito? Perché nel 2012 non è venuto nessuno e nel 2015 si è, come dire, si è venuta della gente? Boh, non si sa, non lo so. Ecco, per questo mi aggancio al topic del mio talk che è la serendipity, perché per noi Services & Drinks Milano è questo qua. È appunto l'accadimento, lo sviluppo di un evento per caso, che si è rivelato poi avere un happy ending, si è rivelato avere un beneficio. Questi siamo noi. Come vedete, come vi raccontavo prima, nessuno di noi fa il community manager a tempo pieno, anzi abbiamo tutti e cinque dei lavori abbastanza impegnativi. Mi sono assicurato che nel team fossero rispettate le quote rosa. Che cosa è successo? Marium, che tra l'altro è qua nel pubblico, un giorno è tornata da una gita a Berlino e ha detto, sono stata a Services & Drinks Berlino, è veramente una ficata pazzesca. A Milano abbiamo il corso in Service Design, perché non lo organizziamo anche noi? Io, che col Service Design non avevo niente a che fare, ovviamente ha detto, va bene, organizziamolo. Ci siamo riuniti attorno a tavola, davanti a una birra, come spesso succede, abbiamo fatto tre, quattro incontri, ci siamo detti, va bene, basta, ragazzi, abbiamo trovato una location, abbiamo trovato degli speaker attinti, ovviamente, inizialmente dal nostro pool di conoscenze, decidiamo la data e partiamo come va, va. Guardiamoci in faccia, per quante persone lo stiamo facendo questa cosa, per 20-30 persone. Al primo evento si sono precipitati, direi, più di 50 persone, avevamo una location piccolissima, era un appartamento, letteralmente, quindi c'erano persone dovunque, attaccate agli stipidi delle porti, sopra le pareti, esattamente, seduti per terra. E il primo evento per noi è stato, ovviamente è un banco di prova fondamentale, abbiamo innanzitutto lanciato uno dei format che utilizziamo nei nostri eventi, che è quello di portare una società di consulenza che lavora nel settore del design, accostarlo a una start-up e fargli parlare dei casi studio attorno a un tema comune, questo è uno dei nostri format. E ovviamente abbiamo avuto il primo incontro con la comunità. La comunità abbiamo constatato essere, composta per la maggior parte, appunto, proveniente dal corso di studi in Service Center Politecnico, quindi una comunità molto giovane. Ma non solo, una comunità anche multiculturale, perché questo corso di studi è un corso internazionale composto per il 50% degli italiani e per il 50% delle persone provenienti da tutto il mondo. Quindi era un elemento che dovevamo assolutamente tenere in considerazione nell'organizzare i nostri eventi. Per questa ragione sono organizzati per lo più, anzi quasi totalmente, in inglese. La modalità di coinvolgimento è stata uno dei nostri punti dolenti, perché essendo molto giovani era molto difficile portarli a bordo su iniziative, ingaggiarli, farli coinvolgere, farli parlare addirittura. Quindi dovevamo inventarci qualcosa. Da qua siamo partiti con l'organizzazione del secondo evento. C'è un video che dovrebbe partire se... Clicchi sul tasto play. Questo è un teaser del secondo evento, poi ve lo racconto nello specifico. C'è un audio, ma non importa, una musica di sottofondo. È per darvi un po' di atmosfera, un po' di ambiente. Grazie. Dovresti andare, penso, manualmente alla slide successiva. No, vai direttamente alla slide successiva, perché ho paura che poi non si... Perfetto, grazie, grazie mille. Per il secondo evento abbiamo fatto un esperimento, abbiamo provato a fare un evento molto più intimo, abbiamo chiuso le iscrizioni a pochi partecipanti, 30, 40 circa, e dal momento che ogni persona veniva da un paese diverso abbiamo chiesto va bene ragazzi, non vi presentiamo nessuno speaker, siete voi gli speaker, portateci un servizio tradizionale legato al vostro paese di origine e presentatelo agli altri. Dopo che hanno presentato, appunto avete visto il video, alcuni ragazzi che presentavano dei servizi del loro paese di origine, abbiamo chiesto ai partecipanti di esprimere che cosa funzionasse e che cosa non funzionasse in quel servizio. In questo modo abbiamo composto quello che è passato poco fa nel video, che è stato il nostro manifesto del Service Design secondo Service Design Drinks Milano, quindi una sorta di manifesto coprogettato dai partecipanti a quell'evento. E questo rappresenta tutt'oggi uno dei format che proponiamo ai nostri partecipanti durante i nostri eventi. Tuttavia non volevamo focalizzarci, fossilizzarci solo su un formato e dovevamo trovare un modo per coinvolgere la nostra comunità in maniere diverse. Ci siamo detti, va bene, troviamo un modo un po' meno impegnativo, un po' più light. Che cosa ci serve? Per ogni evento ci serve una locandina e un'immagine coordinata, ovviamente. Perché non facciamo fare la locandina a un membro della nostra comunità? Lo contattiamo, lo peschiamo, chiediamo a chi si vuole offrire volontario, però facciamo fare la locandina ogni volta a un membro della comunità diversa. L'abbiamo fatto per il terzo evento e questo approccio ci è piaciuto talmente tanto che l'abbiamo ripetuto per tutti gli altri eventi che sono seguiti. Fa un po' sorridere, perché da un designer uno ci si aspetta l'attaccamento, il rigore formale, la passione per l'estetica. In realtà qua è una cozzaglia di colori, stili, font, abbinamenti diversi. A noi in realtà questa cozzaglia piace tantissimo perché è la prima espressione della diversità che contraddistingue la nostra comunità. Anche per questo motivo ogni evento è organizzato e portato avanti in una location differente, proprio per sottolineare la nostra spontaneità, la nostra indipendenza. Terzo evento, diciamo. Il terzo evento per noi è stato un banco di prova, un altro banco di prova molto molto importante perché finalmente, grazie ancora Chiara per questo, siamo riusciti ad ottenere una location che ospitasse più di 100 persone, che è Talent Garden. Non questo, questo non era ancora nato, ma è quello di Merano. Banco di prova sicuramente superato, perché abbiamo superato i 100 partecipanti, però questo ci ha fatto rendere conto anche che non saremmo riusciti a gestire tutto quanto con le nostre forze, ma dovevamo appoggiarci alla nostra comunità per avere risorse come volontari, da cui sono nate cose anche molto molto carine. Se poi avremo tempo ve le faccio vedere. Il terzo evento ha decretato anche il fallimento del terzo format che abbiamo provato a presentare. Questo evento si concentrava su uno degli strumenti del service design e abbiamo capito che al pubblico proprio questo non piaceva, non avevamo voglia di sermoni didattici, niente parte didattica. Come l'abbiamo capito, ovviamente non l'avremmo mai saputo se non l'avessimo chiesto direttamente a loro. Questo oggetto qua è stato il nostro primo format di richiesta feedback. All'inizio era un fogliettino cartaceo, lo distribuivamo all'inizio dell'evento e poi passavamo a ritirarlo. Ovviamente all'aumentare delle persone questo è diventato un impegno un po' troppo oneroso e quindi siamo passati ad un formato digitale. Qualcuno di voi è terrorizzato perché ha visto 1, 2, 3, pensa che i faccia tutti i 15? No, in realtà no, volevo solo darvi una panoramica sui format più importanti. L'evento che abbiamo condotto nell'aprile 2017 rappresenta il quarto format ed è un format a noi molto molto caro. Che cosa è successo nell'aprile 2017? È successo che una delle più importanti società di consulenza di design mondiali, che è Frog Design, ci ha contattato. Frog Design nelle altre sedi europee organizza un evento a loro volta che si chiama Portfolio Slam, è una serata in cui ospitano giovani designer per fare revisione dei loro portfoli e se c'è la possibilità a fare anche dei colloqui per capire se sono interessati a lavorare all'interno della loro società. Frog Design, l'ufficio di Milano, ci ha contattato e ci ha chiesto di organizzare questo evento per loro a Milano durante la Design Week, peraltro, quindi non un tempo proprio facilissimo. Questo evento è andato molto bene, molto bene. Frog ci ha contattato perché non perché non avesse voglia di organizzarselo da solo, perché non potesse, ma perché ha riconosciuto in noi un ruolo di ponte tra la comunità del service design e il mercato del lavoro. Ovviamente dal momento che la maggior parte dei nostri partecipanti è una studente o neolaureata o giovane lavoratore, questo per loro ha un valore fondamentale. Però non pensiamo solamente al lavoro, abbiamo anche una parte molto ludica all'interno del nome, ci piace divertirci e quindi ci siamo detti, va bene, magari di talk ne hanno avuti anche a sufficienza, perché non facciamo un evento che spezzi totalmente le dinamiche degli eventi con presentazioni formali, facciamo una festa. Nel luglio 2017, in una location molto suggestiva, al piano di sopra, ci siamo detti, va bene, facciamo un evento che azzeri totalmente il contenuto, quindi non facciamo speaker, dedichiamo una serata interamente alla conoscenza reciproca, eventualmente facilitandola attraverso una conversazione attraverso un icebreaker, si chiama in gergo tecnico, comunque un'attività interattiva proprio nata per facilitare la conversazione e lo scambio. E questa è stata l'estate scorsa, il luglio 2017. Vado verso la chiusura. Queste quattro parole per noi rappresentano quelli che sono i valori di Service & Drinks Milano. Informale e indipendente perché vogliamo creare degli eventi in cui i partecipanti si sentano a proprio agio e abbiano voglia veramente di partecipare e di parlare, ma che consentano a noi anche di sperimentare con diversi format, diversi elementi che compongono i nostri eventi, in modo tale da portare Service & Drinks Milano a evolversi in una maniera iterativa, cioè, secondo una serie successiva di tentativi e fallimenti a volte, successi altre volte, in modo da farci capire che cosa possiamo portare e che cosa invece è meglio che ci teniamo dietro. Ho finito. Non mi resta altro che invitarvi al prossimo evento che guarda caso, dopo domani, e che per noi rappresenta, dopo ancora due anni e mezzo all'inizio, un altro banco di prova molto importante, perché Servdes, che è una delle principali conferenze a livello mondiale sul Service Design, ci ha scelto come evento di apertura per l'edizione del 2018, che si terrà per la prima volta qua in Italia e qua a Milano. Abbiamo un palco molto importante, che è quello della triennale, e, insomma, speriamo di andare bene. In realtà, l'invito è un po' a fasullo, perché i biglietti, i posti disponibili per questo evento sono andati esauriti dopo un giorno e mezzo che abbiamo pubblicato l'evento su Facebook. Però ci sarà la diretta streaming, quindi se volete potete seguirla. Vi ringrazio. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. 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 Grazie. Applausi. 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 Grazie a tutti